Grazie a tutti. Tanti di noi sono cresciuti con le sue canzoni. Grazie, grazie per la gratitudine di questa telefonata. Grazie di cuore. Siamo qui con il grande diritto. L'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Voglio augurare alla cooperativa Auxilium ed Angeli Corazzi che ha organizzato tutto ciò, ma soprattutto anche ai medici, ai fisioterapisti, agli infermieri, a tutti coloro che stanno dando l'anima per combattere questo maledetto virus, coronavirus, che sta rovinando la vita a buona parte del mondo. La cosa bella è che oggi mi sono sentito con un salvatario che era abbastanza buono e l'ho riempito di queste meravigliose lezioni di vita. Non erano parole che volavano, erano segni che ho saputo raccogliere ad un grande interesse. Maria, Santa Maria Felicità E l'aria c'està La nostra canzone La mangio di sole E un caldo E la mangio che va Ferme un pensiero che sa di felicità Come un sorriso che sa di felicità Perché tanto patir per l'amor mio Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta, al freddo e al gelo. E quando l'amore è mia con lei, e in questa vita, che passa dove andrà. E' stato la prima volta speciale, questa volta ancora più speciale, e non finisce qui.